buongiorno ragazzi come avevo anticipato in un video precedente ho aperto un filone dedicato alle biciclette gravel questa nuova tendenza che sta prendendo sempre più piede tra gli appassionati di biciclette e anche da chi proviene dal mondo delle mountain bike e vuole diciamo un mezzo che sia ibrido rispetto alla bicicletta da strada ma che abbia comunque un'anima off road oggi vi parlo di una bicicletta che potrete trovare a 599 euro sto parlando ovviamente di una bicicletta decathlon perché per questi prezzi è difficile che altri brand riescano a proporvi qualcosa decathlon invece con la sua gravel tribun 120 che è leggermente differente da quella che vi avevo presentato nel 2019 propone una nuova variante al mondo grave spendendo veramente poco entriamo subito nel dettaglio a prima vista il telaio in alluminio è quello della vecchia tribun 120 il prezzo comunque è molto contenuto non ha rivali in questa fascia di prezzo penso sia una delle poche bici protagoniste sotto le 1000 euro ma rispetto alla sua sorella diciamo che l'ha anticipata questa gravel ha una monocorona una bicicletta dotata di sola monocorona ovviamente è una bicicletta che al posteriore ha un gruppo pignoni molto generoso questo modello ha un monocorona da 38 denti e al posteriore monta un 11 42 quindi capite bene quanto sia ampia l'escursione del pacco pignoni posteriore a prima vista su questa bicicletta oltre il monocorona e il pacco pignoni molto generoso spiccano i fregni a disco di natura meccanica i copertoni da 28 mm e anche un manubrio molto ampio per permettere un maggior controllo ma soprattutto un manubrio aperto il telaio ha una geometria tutto sommato confortevole che è uno dei tratti caratteristici di tutte le biciclette gravel rispetto ad esempio alle biciclette da corsa questa bici presenta un canotto di sterzo più alto e il canotto orizzontale molto più corto questo serve per avere una posizione più dritta rispetto a quella diciamo da corsa classica l'allungamento del tubo centrale e la riduzione dell'attacco manubrio hanno permesso di spostare in avanti la forcella per avere più luce tra i piedi e la ruota anteriore il telaio di questa bicicletta a parte la forcella che è in carbonio è in alluminio 6061 t6 è un telaio sloping con serie sterzo semi integrato peso del telaio serie m ovviamente un chilo e 800 grammi la forcella in carbonio con canotti in alluminio per aumentare la leggerezza e allo stesso tempo la precisione di guida il canotto è da un pollice un ottavo e questo assicura ovviamente una grande solidità e rigidità sulla forcella sono inseriti anche degli innesti portapacchi per un peso massimo sopportabile di 9 kg la forcella pesa soltanto 750 grammi una delle cose più interessanti però di questa bicicletta è il manubrio gravel tribun costruito in alluminio con un angolo di curvatura di 16 gradi per avere una presa migliore e un comfort molto elevato la lunghezza del manubrio varia al variare della taglia questo è un manubrio gravel quindi un manubrio molto ampio con appunto un'apertura della curvatura che ne aumenta la precisione di guida anche con la presa bassa come dicevo nell'introduzione del video questa bicicletta monta all'anteriore una monocorona a 38 denti con leve micro shift xl a 10 velocità molto precise molto robuste e avendo avuto la fortuna di visionarle in negozio devo dire anche molto confortevoli e si adattano a tutti i tipi di mani il dragliatore posteriore e invece sempre micro shift m665 con sistema clutch che permette di mantenere il deragliatore ed evitare salti di catena che ovviamente su fondi molto sconnessi non è poi così raro per quanto riguarda la guarnitura e la cassetta la cassetta micro shift a 10 velocità con un salto di rapporti che va da 11 a 42 la guarnitura anteriore natriban 38 pedivele in alluminio 60 61 corona acciaio pedivele da 170 mm sono di base su tutte le biciclette gravel tribun per quanto riguarda freni a disco sono pro max disc in acciaio il freno anteriore è un disc 3330 r flat mount mentre il freno posteriore è un disc 300 r flat mount sia all'anteriore che al posteriore montano dischi di diametro da 160 mm in alluminio tribun tubeless ready alluminio 60 63 t6 dimensione 622 x 23 i copertoni sono 700 x 38 hutchinson 450 grammi a copertone carcassa 66 tpi fine la sella tribun ergo fit un reggisella tribun in alluminio con diametro da 27.2 mm per favorire comfort e una buona flessibilità peso complessivo della bicicletta 10 kg e 950 grammi detto questo ragazzi è arrivato il momento di dare un giudizio a questa bicicletta è sicuramente una bicicletta molto economica la potrete trovare in tutti i punti vendita decathlon ve la fanno provare hanno un sacco di taglie vi consiglieranno al meglio quale modello quale taglia fa per voi ad ogni modo rimane comunque una scelta molto entry level una scelta che consiglio a tutti coloro che vogliono comprare una bicicletta spendendo pochissimo quasi spende davvero poco non c'è nessun altro brand che riesce a fare questi prezzi ma che però non ha nemmeno molte esigenze quindi se cercate una bicicletta economica polivalente che costi poco e che vi avvicini per la prima volta in punta di piedi al mondo grave questa è la bicicletta che fa per voi bene ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video noi come sempre ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima ciao ciao